Ooooooooooooh! Eeeeeh! Dove siamo qua? Secondo i miei ultimi calcoli ci dovremo trovare a 106 metri di profondità nel sottosuono di verno in Cicosmo Bacchia Pesa! Gesù c'è più alto tasso di linfomania al mondo Abbono! Si! E noi dove siamo ora? E va bene, 100 metri sotto Eeeh! Ciuderà ben altro lungo eeeh! Forchi noi! Troppo forti guarda!